L'Italia è ancora oggi agli ultimi posti delle classifiche in fatto di uguaglianza di genere. I passi avanti troppo pochi e troppo lenti. Occorrono linguaggi nuovi che sappiano parlare più giovani. Occorre dimostrare ai ragazzi e alle ragazze che chiunque, in qualunque contesto, a casa, a scuola o al lavoro, può fare qualcosa di concreto per contrastare le discriminazioni di genere. Gender Game Book è un libro illustrato e interattivo sul contrasto alle discriminazioni di genere. Lettori e lettrici potranno entrare nella storia e cambiare con le loro scelte il corso della narrazione. Body shaming, gender pay gap, violenza sulle donne. Al termine di ogni storia saranno le loro stesse scelte a determinare il finale. L'obiettivo è pubblicare e promuovere Gender Game Book in Italia e negli Stati Uniti, portandolo nelle scuole, in libreria e ai principali festival letterari. Ed è proprio attraverso il gioco della lettura interattiva che vogliamo sensibilizzare i più giovani su quella che è una vera e propria emergenza sociale.